La cardistina è 4 alita e la faccio con punta de jacal e la faccio con punta di 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 jacal l'ตaggio è dedicato a punta e quando la faccio con un servizio Si, si saca praticamente tutta la fibra e si tiene la punta. Questo è un lavoro che si fa, io ve lo muestro, però si fa prima, è molto più rapido. Io la faccio con coca di leon. Si, perché mi piace a me, non perché, come non lo faccio per vendere, per me lo faccio per coca di leon. Questo è il nostro corso. due di un lato due di un lato due di un lato si 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 Ora mettiamo l'accol, però non la mettiamo né di lieve né di gaggio, la mettiamo in con il canale, come si fa? Il genio di Mark Petitian ha inventato questa è un genio, non si può dire nulla si pone dentro, non si può fare per mostrare a Carlos facciamo la pluma per la punta e abrimo tutta la fibra che tiene in questa in questa maniera, si ve? Ora la mettiamo in questa dentro di aca, questo si abri, viste? Alla dove sei, se ve perfetto, se ve perfetto se pone aca e si manda dentro tutto, in questa maniera, che passa? La pluma abierta se dobla perfettamente nel racchide, se junta e si va adentro e quedano fuori la fibra, viste? si bene poi lo prendiamo con questo, perché il genio di Petitian non è tanto questo, ma questo che permette di sacar la pluma in questa maniera la mosca si ok in questo perché facciamo questo? per sacar peso alla mosca perché per per servire il corpo poniamo una una pluma con racchide quindi tiene peso specifico nella mosca La mosca, se poniamo un'altra sacola del culo di canar con racchide, si fa più pesata. Con questo non abbiamo racchide, perché ora la vamo a cortare e vi mostro come si fa. Ma il discorso più importante è che le fibre del culo di canar sono molte e oppone più resistenza nella superficie dell'acqua. Quindi va a compensare il peso del corpo che è fatto con i racchide della pluma. E ora che facciamo? Vamo a cortare. Ora, con la tijera, cerca al racchide. Perfetto. La mettiamo dentro. Invento una linda cosa, un petit jean, perché con questo si può girare dentro. Edicare tutto già. Questa operazione è molto difficile di farla così. Alla cosa, anche con il dedo di traba e poi soltare. Il procedimento è lo stesso. La maniare di fare è la stessa. La maniare di fare con il culo di lieve, ma con il culo di canar. La maniare di fare con il culo di lieve, ma con il culo di lieve, ma con il culo di lieve. La maniare di fare con il culo di lieve e video, ma con la maniare di lieve. Ora, la mosca quasi sta terminata. Ora, hai un problema, hai mucha fibra que se apretaron en el medio, la vamos a sacar con este. Si que son muy blandas y se ponen en el medio. Si que son muy blandas y se ponen en el medio. Si. Hasta perfecto. Ya, ya normal. Aplausos. 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 Aplausos.